Buongiorno, ho appena fatto il doccio del mio tavolo, perché anche oggi torno all'indomiglio di 19.09. Allora, mi tocca anche oggi, nel frattempo c'è il cane di vicini, mi sto sbagliando, il canino di sopra, e guarda come, comunque, cosa ne pensate? Allora, ultimamente sto guardando X Factor, iniziano al mio ragazzo, e cosa ne pensate voi dell'eliminazione di Virginia? Io penso che lei era brava a cantare, quindi penso che comunque si meritava di rimanere lì, a X Factor. Voi cosa ne pensate? A me i Ross non piacciono, quindi era meglio, molto meglio se eliminavano i Ross. Poi vabbè, certo, c'è a chi piace e c'è a chi no, a me però, tipo, non piacevano. Comunque, voi, facciami sapere cosa ne pensate voi. Adesso andiamo al lavoro, se no ho il rischio di far anche tardi. Sono appena arrivata al lavoro, adesso mi chiamo perché fra un quarto d'ora entro, così me la prendo super con calma. E ho notato che non posso più mangiare, o meglio, sapevo che comunque faceva male mangiare McDonald's. E comunque ho scoperto anche che ci sono cose, di ingredienti, nei panini, che a me danno noia, che a me fanno venire fuori proprio le polle. Quindi una sorta di allergia, diciamo. O meglio, non so se è un'allergia, comunque non posso mangiare panini queste cose, ma dovrò mangiare soltanto un pollo alla griglia, queste cose qui. Quindi, purtroppo, a me sì, facendo un turno così lungo, un'ora in avanti, mi porterò qualcosa da casa, perché tanto non posso mangiare più nulla, quindi... Sono appena uscita dal lavoro, adesso vado a casa dal mio fidanzato, mangio e mi vado a vedere Sirene, perché sta per iniziare. Infatti mi metto subito in marcia, perché non me lo voglio perdere, non me lo voglio perdere, anche se quando arrivo a casa io praticamente è già iniziato. Però comunque... Poi ci tenevo... Scusate per la... Scusate per la musica, comunque... Ci tenevo a dire una cosa... O meglio, ci tenevo a dire... Vi volevo chiedere... A voi, chi vi piace... Di... Cantanti... Di X Factor? A me piace molto Rita. Molto, molto, molto. Fatemi sapere voi chi vi piace. Sono appena arrivata a casa, devo dire che le temperature si fanno sentire, sono già a 7 gradi, comunque adesso vado su in casa, mangio e mi metto a guardare Sirene, ovviamente sperando che il mio ragazzo non mi rubi la televisione in camera, o meglio... Cioè non è... cioè non mangio in camera, però mangio in cucina, quindi sperando che... Scusate per l'inquadratura è un po' così, ma sto appunto chiedendo, l'ho sportato della macchina, comunque... Dicevo, mangio in cucina, però ora vediamo se riesco a metterlo lì, altrimenti mangio di corsa e me lo vado a vedere, anche perché è già iniziato da qualche minuto per fortuna, quindi... Sono abbastanza... In... In orario, diciamo, come si suol dire. Comunque... E... Appunto, come vi dicevo prima, fatemi sapere qual è il vostro cantante di X-Pastor preferito. E io vi mando un grosso bacio e ci volevo dire anche questa cosa, mi volevo scusare se i miei video sono un po' corti, cioè nel senso... I vlog sono un po' corti, però... Mmm... Non so... Non so cosa vi può interessare vedere, quindi fatemi sapere anche voi un argomento che vi può interessare, così... Anche se non è un vlog, è un video normale, come... E poi... Vi faccio un video, appunto... Dove... Dove parliamo di questa cosa. Poi vi farò il video... Vi prometto che vi farò appena posto il video dove vi farlo... Un punto di cosa è successo al mio ragazzo... E niente... Poi vi devo far vedere anche delle cosine che mi ha comprato il mio ragazzo... Però poi ve le farò vedere, casomai, nel prossimo video perché adesso... Mi sa che non ce la faccio... Perché devo mangiare e far vedere la tele... Insomma... Le cose della sera, insomma... Ve le farò vedere nel prossimo video, come al solito... Vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao!